E così, ogni quel volta che svegliandomi di notte mi ricordavo di Combré, per molto tempo non ne dividi che quella sorta di lembo luminoso ritagliato nel mezzo di tenebre indistinte, simile a quelli che l'accensione di un bengala o un fascio di luce elettrica rischiarano e isolano in un edificio che resta per le altre parti sprofondato nel buio, abbastanza largo alla base. Il salottino, la sala da pranzo, l'imbocco del viale non illuminato dal quale sarebbe comparso il signor Swan, l'ignaro responsabile delle mie tristezze, il vestibolo nel quale mi sarei avviato verso il primo gradino della scala, che era così crudele salire e che costituiva da sola il tronco fortemente assottigliato di questa piramide irregolare. Nel vertice, la mia camera da letto, con annesso il piccolo corridoio dalla porta a vetri per l'ingresso della mamma. Così, per molto tempo, quando, stando sveglio di notte, ripensavo a Combré, non ne rividi mai se non quella specie di lembo luminoso, che si tagliava in mezzo a tenebre indistinte e simili a quelle che la vampa di un fuoco di bengala o qualche proiettore elettrico illuminano e sezionano in un edificio, di cui le altre parti restino immerse nel buio, alla base, piuttosto larga, il salottino, la sala da pranzo, il richiamo dell'oscuro viale, donde sarebbe giunto Swan, l'autore inconscio delle mie tristezze, il vestibolo per cui mi incamminavo verso il primo gradino della scala, che mi era tanto duro salire, e che costituiva da sola il tronco assai stretto di quella piramide irregolare. E in cima, la mia camera da letto, col piccolo corridoio dalla porta a vetri per cui entrava la mamma, in una parola sempre veduto alla stessa ora, isolato da ogni cosa che vi potesse essere intorno, stagliandosi solo nell'oscurità, lo scenario strettamente indispensabile, come quello che si vede indicato a capo delle vecchie commedie per le rappresentazioni in provincia, al dramma dello spogliarmi, come se Combré non fosse consistita in due piani, riuniti da un'angusta scala, e come se là non fossero mai state che le sette di sera. A dire il vero, a chi mi avesse interrogato, avrei potuto rispondere che Combré racchiudeva anche altre cose, ed esisteva in altre ore. Ma poiché quello che avrei ricordato mi sarebbe stato offerto soltanto dalla memoria volontaria, la memoria dell'intelligenza, e poiché le notizie che se dà sul passato non mi servono nulla, non avrei mai avuto voglia di pensare a quel resto di Combré. Tutto questo in verità era morto per me. Morto per sempre? Forse. Il caso è una gran parte in tutte queste cose, e un secondo caso, quello della nostra morte, spesso non ci permette di attendere a lungo i favori del primo. Mi sembra molto ragionevole la credenza celtica, secondo cui le anime di quelli che abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche essere inferiore, una bestia, un vegetale, una cosa inanimata, perdute di fatto per noi, fino al giorno, che per molti non giunge mai, che ci troviamo a passare accanto all'albero, che vediamo in possesso dell'oggetto che le tiene prigioniere. Esse tralasciano allora, si chiamano, e non appena le abbiamo riconosciute, l'incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte, e ritornano a vivere con noi. Così è per il nostro passato. È inutile cercare di rievocarlo. Tutti gli sforzi della nostra intelligenza sono vani. Esso si nasconde all'infuori del suo campo e del suo raggio di azione in qualche oggetto materiale, nella sensazione che ci verrebbe data da questo oggetto materiale che noi non supponiamo. Questo oggetto vuole il caso che lo incontriamo prima di morire, o che non lo incontriamo. Già da molti anni di Combré, tutto ciò che non era il teatro, o il dramma del coricammi, non esisteva più per me. Quando, una giornata d'inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po' di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d'avviso. Ella mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate Madeleine, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata di una conchiglia. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione di un triste domani, portai alle labbra un cucchiaio di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di Madeleine. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso mi aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. Mi aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa. O meglio, quest'essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde mi era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente. non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. È tempo che mi fermi. La virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è in essa ma in me. Essa l'ha risvegliata ma non la conosce e non può che ripetere indefinitamente con forza sempre minore quella stessa testimonianza che io sono incapace di interpretare e che voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta fra poco per una spiegazione decisiva. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca adesso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza. Ogni qualvolta l'animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo quando lui il ricercatore è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà nulla. Cercare non soltanto creare si trova di fronte a qualcosa che ancora non è e che esso solo può rendere reale può fare entrare nella sua luce e ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto che non portava con sé alcuna prova logica ma l'evidenza della sua felicità della sua realtà dinanzi alla quale ogni altra svaniva. Voglio provarmi a farlo riapparire indietreggio col pensiero al momento in cui ho bevuto il primo sorso di te ritrovo lo stesso stato senza una nuova luce chiedo al mio animo ancora uno sforzo gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge e perché niente spezzi l'impeto con cui tenterà di riaffermarla allontano ogni ostacolo ogni pensiero estraneo mi difendo l'udito e l'attenzione dai rumori della stanza accanto ma sentendo come l'animo mio si stanchi senza successo lo costringo da prendersi quella distrazione che gli rifiutavo a pensare ad altro a ripigliar vigore prima di un tentativo supremo poi una seconda volta gli faccio attorno il vuoto di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora recente di quel primo sorso e sento in me trassalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi qualcosa che si fosse come disancorata a una grande profondità non so che sia ma sale ad agio ad agio sento la resistenza e odo il rumore delle distanze traversate certo ciò che palpita così in fondo a me deve essere l'immagine il ricordo visivo che legato a quel sapore tenta di seguirlo fino a me ma si agita in modo troppo confuso percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l'inafferrabile turbinio dei colori smossi ma non so distinguere la forma né chiederle come al solo interprete possibile di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo del suo inseparabile compagno il sapore chiederle di rivelarmi di quale circostanza particolare di quale epoca del passato si tratti toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo quell'attimo antico che l'attrazione di un attimo identico è venuta così di lontano a richiamare a commuovere a sollevare dal più profondo di me stesso non so adesso non sento più nulla si è fermato è ridisceso forse chissà se risalirà mai dalle sue tenebre debbo ricominciare chinarmi su di lui dieci volte e ogni volta la viltà che ci distoglie da ogni compito difficile da ogni impresa importante ma consigliato di lasciar stare di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi ai miei desideri di domani che si possono ripercorrere senza fatica ad un tratto il ricordo mi è apparso quel sapore era quello del pezzetto di mandlè che la domenica mattina a Combrè perché quel giorno non uscivo prima della messa quando andavo a salutarla nella sua camera la zia Leonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio la vista della focazza prima ad assaggiarla non mi aveva ricordato niente forse perché avendone visto spesso senza mangiarle sui vassoi dei pasticceri la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combrè per unirsi ad altri giorni più recenti forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori della memoria niente sopravviveva tutto si era disgregato le forme anche quella della conchiglietta di pasta così grassamente sensuale sotto la sua veste a piega severa e devota erano abolite o sonnacchiose avevano perduto la forza d'espansione che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza ma quando niente sussiste d'un passato antico dopo la morte degli esseri dopo la distruzione delle cose più tenui ma più vividi più immateriali più persistenti più fedeli l'odore e il sapore lungo tempo ancora perdurano come anime a ricordare ad attendere a sperare sopra la rovina di tutto il resto portando sulla loro stilla quasi impalpabile senza vacillare l'immenso edificio del ricordo e appena ebbe riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine inzuppato nel tiglio che mi dava la zia pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice subito la vecchia casa grigia sulla strada nella quale era la sua stanza si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino dietro di essa costruito per i miei genitori il lato tronco che solo avevo riveduto fino allora e con la casa la città la piazza dove mi mandavano prima di colazione e vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera e con tutti i tempi le passeggiate che si facevano se il tempo era bello e come in quel gioco in cui i giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d'acqua dei pezzetti di carta fino allora indistinti che appena immersi si distendono prendono contorno si colorano si differenziano diventano fiori case figure umane consistenti e riconoscibili così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Suang e le ninfee della Vivon e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Combrè e i suoi dintorni tutto quello che viene prendendo forma e solidità e sorto città e giardini dalla mia tazza di tè e i suoi dintorni e i suoi dintorni che si riconoscibili che si riconoscibili